alle 19 10 di giovedì i vicini del fuoco sono intervenuti in via piccoli a vicenza per l'incendio divampato al terzo piano di un condominio disposto su sei livelli due persone sono state portate al pronto soccorso i pompieri arrivati nell'immediatezza hanno evacuato del tutto le persone ancora presenti nei piani superiori e iniziato le operazioni di spegnimento poi hanno prontamente spento le fiamme che all'arrivo delle squadre venivano fuori dalle finestre della stanza interessata dall'incendio il rogo ha completamente bruciato tutto il contenuto della camera danneggiato il laterizio del solaio ancora in corso la valutazione di stabilità della stanza le cause delle fiamme sono al vaglio dei vicini del fuoco